Amici di MoMA non MoMA, oggi siamo qua in un luogo un po' diverso dal solito, siamo negli uffici di MoMA Style ma non potevo assolutamente aspettare di essere in studio per darvi questa meravigliosa notizia ovvero che gireremo un'intera puntata dedicata a Zumba Italia prima naturalmente di farvi vedere questa puntata che non vi rivelerò quando andrà in onda abbiamo pensato per voi a un'intervista davvero speciale a Michi Zagarro che è la massima esponente di Zumba in Italia, ha creato una fantastica scuola a Roma e ci ha voluto raccontare insomma qual è l'esperienza di una vera Zumbaera, io la chiamerei così insomma un insegnante che fa questo di mestiere, ha sposato da causa di questa fantastica attività fitness adatta a tutti e non solo ci ha raccontato qualcosa appunto di Zumba ma ci ha raccontato anche che cosa significa la settimana No Pi Gris che è una settimana che invita tutti gli italiani insomma ad alzarsi dalle sedi e cercare di muoversi un pochino di più per uno stile di vita più sano ci vedremo nuovamente sugli schermi di Mo Ma Non Mo Ma prossimamente parleremo ancora di Zumba intanto vi lascio con le parole di Vicky Zagarro e vi ricordo la nostra pagina Facebook facebook.com slash la televisione web a prestissimo, ciao! Hey ciao a tutti sono Vicky Zagarra, ZES, Zumba Education Specialist di Zumba Fitness che cosa significa ZES? Sono la formatrice di tutti gli altri istruttori di Zumba per chi non sa che cosa sia Zumba, Zumba è una disciplina fitness che combina la danza con i passi bassi della robica ed è molto facile da seguire lì in questa lezione che è molto divertente abbiamo dirli mi siano latini che no, molto internazionali e il successo di questa lezione è che è molto facile ed è molto divertente per cui più o meno 15 milioni di persone praticano una lezione di Zumba a settimana in tutto il mondo, in tutto il mondo e il successo è proprio quello che la gente si alena nello stesso momento si sta divertendo in una ginnastica mascherata quindi se ancora non hai provato ti invito però la motivazione per la quale sono oggi qui è per invitarti anche a far parte di questa bellissima iniziativa di Zumba Fitness di invitare a tutti voi italiani a muovervi un po' di più alla non pigrizia e come potete fare parte di questo programma? molto molto semplice dal 12 al 18 maggio invitiamo tutti quanti a compartire tutti i social hashtag non pigrizia dimostrare che anche voi mi muovete un po' di più quindi dovete fare parte di questa campagna perché vi garantisco che sarà tutto un esito tutto un successo ok? un saluto molto speciale a tutti i fans di Momano Muma e vi auguro tantissime tantissime cose belle ok? alla prossima che vi viva Zumba Fitness al hungry oh or is